... Vi piacerebbe incontrare un coniglio parlante? Io sono Benny, di professione coniglio! Benny coniglio, coniglio Benny, scegli tu quello che preferisci e tu come ti chiami? Ma guarda, ho un coniglio parlante! No, non è possibile, io devo aver proprio battuto la testa! E fare amicizia con un orsetto? Vuoi venire fuori a giocare un po' con me? Sì, allora seguite Riccioli d'oro nella foresta incantata! Volete che venga con voi, non è così? Io sono mamma orsa, questo è mio marito, papà orso, e questo è il nostro piccolino Bartolomeo! Oh, oh, oh! Sto parlando in lingua guffese con Ollie e il mio amico guffo, ti piacerà? Ho appena pensato un altro proverbio Benny, una pietra che rotula non piglia pesci! Riccioli d'oro, la divertente avventura di una simpatica bambina e dei suoi amici del bosco! Non sono mai stata così felice in tutta la mia vita! Puoi rimanere con noi per sempre se vuoi! Stardust, un mondo di favole e di avventure!